Si è sfiorata la tragedia nella tarda serata di venerdì, quando un uomo, mentre stava maneggiando una pistola, ha esploso un colpo che ha raggiunto al torace il suo nipotino di appena un anno e mezzo. Folle la corsa in ospedale, dove il piccolo è stato sottoposto d'urgenza a un'operazione chirurgica per rimuovere la pallottola. Una ferita importante che ha interessato la parte addominale del torace del bimbo, così come anche un polmone. Il piccolo ora in terapia intensiva e i medici mantengono il riservo sulla prognosi. Le prossime 24-48 ore saranno decisive per la sua ripresa. Intanto l'uomo è stato denunciato dalla squadra mobile di Napoli e dal magistrato di turno della procura di Nola. Secondo quanto emerso dalle indagini della polizia di Stato, il nonno del piccolo, struttore di tiro, ha esploso il colpo di pistola mentre stava maneggiando l'arma, carica e con un colpo in canna, verosimilmente mentre era intento a pulirla. Il colpo ha raggiunto all'addome il nipotino di un anno e mezzo che vive con lui in quella casa insieme con i genitori, ferendolo gravemente. L'incidente ha scosso profondamente la comunità di Pomigliano d'Arco, dove la famiglia è conosciuta e stimata. L'uomo adesso dovrà rispondere dell'accusa di lesioni colpose aggravate.